Siete carichi, sì o sì? Oh, cazzo, Aldo con Rumble into Fiora, Aldo con Rumble into Fiora, e voi siete lì, in streaming, e vabbè, e vabbè, niente, cazzo, più tifo, ragazzi, più tifo, non vi dico di fare cheers, ma vi dico di spammare in chat, dai, dai, cazzo, dai che la perdi, dai Aldo, meno 20 LP, tutta roba è così, meno 20 LP, poi, insomma, gli NLP che perdo, ne perdo 5, forse 6. Questo mi ha smorzato la voglia di invadere, se io vado giù per invadere, lui, eccoti il clone, il clone, beccati il pagliaccio, se sono 50 di HP, 100 di Magic Resist, You need help, Shaco? Yes I'm fine, ma cazzo, ma fatti lisciare che guadagni 5 secondi neti su una bot che... Dove stanno i... la chat? Eccolo qua Buono, buono, oh raga, non puliti eh, contro Fiora, siamo di un chill della madonna, un chill spaventoso, un chill nel quale noi dobbiamo semplicemente appoggiare la vista nella corsia, premere Q e tirare letteralmente dritto. Salvo che il rosso di Fiora finisca qua, se finisce qua io bestemmio in dialetto, finisce dietro. Ci fa vedere e capire soprattutto... Che comanda lei? Allora comandi te. Cosa volevi fare te? Dei danni, io anch'io i danni qua. Eh, però devo ottenere fino al 5. Il grasper raga non mi aspettavo mai nella vita che facessi tutti questi... si danni, lui non ci arriva in range. Devo prendere il 3 raga. Leal 2 ha quasi certamente la E. Oh Vittorio! Ah, 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 ha sbagliato, sbagliato, sbagliato. Merda però, non so un cazzo. Cazzo fa? Oh bella, Vittorio! Come stai? Cazzo della sub, benvenuto qua in famiglia tra... Vabbè, senti, però io non ci posso andare. Se lo fai da solo, boh. Perché io, bro, non... non posso dirti nulla, eh. Cioè tu fai quello che devi fare, fai le robe da sciacco... Madonna. Oh ma ce n'è... Bam, fuori dal cazzo! E ci leviamo anche sciacco dalla corsia perché mi sono strarotto di avere sto pagliaccio in corsia. Però se... me li lasci però... Ma Dio fa, ma... I'm in! Da di una di quattro nei giorni. Con Olaf. Cioè, Dio Cristo, ma questo bastardo, no? Sto coglione. Che mi ha saccagnato tutto, mi ha saccagnato. Non mi hai mai preso, ma non mi hai mai preso. Ma non mi hai mai preso il range della Q di Evelyn. Non hai mai mille. Quelli erano mille secchi, mille sputati. Bastardo sciacco. Che sciacco può anche avere le ragioni nel dire questo non ha seguito in culo la farm. Però dai, perché poi sono un porco di merda. Adesso mi sono morto. Ho dato il vantaggio a Evelyn che non c'era. Non c'era il vantaggio ad Evelyn. E... Basta, eh. Fiore è tiltata. Ho recepitato, ovviamente, perché, insomma... No, è andata a farsi la rana avversaria. Range è abbastanza particolare di... Comunque. Vedo che stai droppando, comunque, dalla chat, Vittorio. Sei contento di star droppando. Cosa dice Francesca? Ti prepara ancora da mangiare o ti ha già buttato per strada? Open top. Eh, io non ho fatto un cazzo in questo game. Ma posso giocare una partita per cort... Una partita dove vorrei giocare. Una. Dove io prendo e gioco il mio rumble. Non che c'ho lo shackle che rompe i coglioni. C'ho... L'Evelyn che fa le... 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 ci lascia boh le calliamo beh però puoi scrivere la bestemmia adesso veneto mi irrito se non se non scrivi giusto le bestemmie posso prendere il bastone e adesso cambio build devo fare una build da one shot però riesco in minuto 4 la cosa che mi fa maggiormente incazzare è che quell'altro bastardo clown di merda ma in quell'altro 5 minuto su 6 della wave per pusharla in fretta e gli inculo anche il cavo no però la width è sotto dopo su la torre c'è vabbè classico del jungle è classico del jungle ma che se lo levino sto classico qua tu sei la tua giungla si ti vengo a rubare una rana vabbè mi flammi se lo faccio si tu però puoi rubarmi tutti i minion top si e allora non ho capito cioè è un paradosso è un paradosso perché se lo faccio io prendo il flame ovviamente perché ha fatto Aldo allora lo flammiamo a merda infatti non gli conviene che lo prenda qui c'è top menubile kill chapeau si ma qua raga veramente pare parte che mi ha caettato tutto 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 mi ha caettato tutto mi ha caettato come cazzo ha fatto a caettarmi tutto rimanendo vivo con tutti i danni che ho è una di carry raga ha caettato tutto qua raga mmr diamante cioè tra evelyn che comunque fiora e quello zoning bellissimo che mi ha fatto all'uno che io ho totalmente inaspettato cioè raga veramente mi tocca giocare come se fosse a diamante se partite qua è no ci potrebbe essere twitch recollo è schifo idea personale io andrò andrò così andrò mi ha risquitato pure Ione cosa stiamo giocando a fare sto game c'è evelyn e mid perché non sa più che pesci pigliare day r aspetta magari così no day r3 dovrebbe anche essere che venga da me o dovrei mitigagli mmr e lo race quit eh però devi vedere come giocano i player cioè io mi ritrovo in una posizione nella quale fatico a sbagliare gli asuo vincono le lane cioè gli sciacco vanno di ti devo passare anche Victor le cartelle però non ci serve un caso tra le cartelle tanto eri ma tanto c'è sciacco tanto c'è sciacco cazzo ma bro ma andiamoci no hard lags dai sei un clown minchi adesso no dai dai basta e usassi coltellini per pushare boh vado a prendermi che cartelle è perché i sub in questo streaming da dopo la riforma possono accedere a delle cartelle di corsi esclusive che vengono fatte appunto per appunto aumentare quella che è la knowledge o quelle che sono delle skill dei vari giochi c'è un corso mental sull'olio un corso di micro macro come giocare in generale e al primo cartelle cliniche da quando ma quelle sono già passate tutte sono basato col massimo di voti a quelle cazzo me devo fare appunto io te l'ho chiesto perché è doveroso chiederlo poi magari qualcun altro magari nuovo entra e fa ma che cazzo è cartelle di cosa cartelle cliniche basta cartelle cliniche sono tornati tutti raga i nostri amici tornata fiola tornato ione tornati tutti olla ma te ma non te ne fai un cazzo non te ne fai non te ne passo non te ne passo su delle mie a qualcuno più povero ne faremo un giveaway allora ai poveri cioè anche il c'è anche il rango ricco e povero bene visto quel colpo di torro ho detto ma non ho sentito l'audio infatti non c'era niente da sentire comunque raga a me fa girare i coglioni questo gioco praticamente praticamente siamo finiti in coda su questo gioco in coda ripeto in coda 26 minuti per affrontare una hinting una brava fiora tilted un ratto cioè non è bello manca 143 ciao alessio mariani anzi alessio underscore mariani il ricco il povero il troll no comunque raga penso veramente qua siamo di 2 non ironicamente tutto bene Aldo si fa finta cioè dovrei stare da dio a rigore di teoria bravo vai via perché ho combattuto rilea apposta per te dai ti invoglio uso lanciafiamme per devo unificare qua entro in combo è scappato se l'ha dato a zampette elevate niente sono elomedio plastica no piano elomedio plastica perché evelyn è brava e fiora ha fatto un 3 dall'1 era una roba raga raga io sono busta di piscio 11 livello ti vado addosso così e chi è che mette il follo vabbè tra fratelli grande Alessandro ciao panda sni sni sono un po' stanco diciamo però raga sto bene sono vivo ho fatto l'analisi del sangue vanno bene ho mangiato i pistacchi ho mangiato anima un po' sta chat ho mangiato i pistacchi ho mangiato anche i bagigi li penance che senza musica trollare qua ci si annoia senza musica qua si sta facendo del content scherzi io che mi faccio carriare questo cazzo ricapita ma il nostro amico Ione è anche lui cioè si qua fa perdere tempo a tutti 13 a 4 content massivo content 2 che siano è da piangere il problema è che niente ho provato buono will di shivana giungla io che cazzo vuoi che ne sappia di come si gioca shivana giungla shivana giungla so che va va tank dai levati va tu come la buildavi eh boh va guanto poi c'è c'è scarpe poi ci fai di ma è molto molto tipo diana ora full ap con sunfire che disgusto full ap con sunfire cioè praticamente tu arrivi là one shot e snowballi la partita non sei killabile insomma more relax ma pure questa qua è tank oh mio dio chi è che ci muore qua pan fatto non prendo neanche il frutto mieloso perché è da fighe prenderlo il frutto mieloso bacio l'avete visto anche voi sì vediamo stiamo aspettando il 20 ev please ma girl ots stiamo aspettando l'ff raga cioè se avete delle domande anche proprio da dirmi aldo dimmi qualcosa di veramente importante seguimi su instagram cazzo seguimi su instagram noi facciamo lavorare quello streamer mensa vuoto che è un grande bot 08 sì tiltato raga ma ci sta eh ci sta assolutamente diciamo che è uno di quei game in cui tu dici guarda non lo so per speccare la ulti però non è mai sprecata per una assist io non ho preso una e bene mi direi direi di aspettare qua anzi prendi te la prendi te la brava brava evelyn usiamo l'axe qua bene assist comunque raga stiamo c'ho crypto stiamo veramente dando troppo fammi fare questo nidosi l'acqua raga veramente mi stanno cascando le palle dai come on ma è colpa nostra anche dovevamo già chiuderla dovevamo già chiuderla ti ho pure fatto la clip animale della giungla allora innanzitutto mi porti rispetto perché animale della giungla lo ero ora sono animale della top lane leggi aldo animale top lane la t non sta per informatico i t ma sta per animale della top lane innanzitutto qua c'è questa fiora i t extraterrestre senti gold croccante che viene stampato qua dai ci siamo fiore ma l'ignite l'uso solo per te mio amore io ho due stack è un secondo game non divertente perché non è un game divertente i animale bravo e ti ma che topolone bro ma topolone tua sorella topolone senti che aria mamma mia mi sta alzando anche la gonna qua sotto il kit la schizzer ma mi senti e ti sarà ti di erba aiuto la passiva qua tanto bisognerà chiedere aiuto a qualcosa sennò erba aiuto vai esuo dai fratello mio dai per cortesia bravo un altro assist facciamo che di era questo game italiano tiltato beh lei di italiano è bruttissima secondo me bam e di là non vai ma questo qua ha sempre la ulti up io non tengo palabras possiamo tirare giù un obiettivo bravo sciaco che finalmente inter no non citiamo le squadre di calcio per cortesia perché altrimenti dico inter allora uno fa le clip ha detto inter ha detto inter baster cortesia non tengo dinero ma che per un attimo ho avuto paura yes mi amor yes mi amor sono i rischi che vanno presi ragazzi ovviamente a parte che succedono delle cose strane tipo la porta che si apre è andato di là è andato dove è che si è andato vabbè è morto è difficile anche da commentare una partita così allora vorrei che io ognuno di voi si mettesse nei miei panni sono in questo momento in una partita ostaggio il fatto che il team nemico non vuole surrandare ma vuole lasciarsi farmare il KDA io non voglio farmare il KDA perché voglio farmare game però anche il KDA è importante cioè dopo il primo game siamo morti sette volte perché avevano l'ammasso di merda di se giovani top che KDA farebbe anche una bella boccata d'aria l'unica morte ce la siamo anche cercata invadendo Everinal 3 pensando che non avesse danni invece ne ha di danni quella puttana dove puttana in realtà ragazzi questi coglioni del team beh questi coglioni del team bro cerchiamo di utilizzare un linguaggio un po' più scurrile quindi questi abecedari chiamiamoli perché se no sempre coglioni cioè è un volgarismo abecedari dici vabbè almeno c'è Dario non si offende almeno c'è Dario dici comunque io non vorrei dire ma come è fatto Twitch a kaitarmi tutti l'unica volta in tutta la mia vita che mi capita che un Twitch mi riesce a kaitare ma porco voglio fermare che DA neanche quello si può più fare no ragazzi molto brutto molto brutto c'è sto Twitch qua ma ha sempre ulti app adesso non più che cazzo vabbè noi andremo a andare almeno gli autoattacchi non li kaita o è forte in culo cos'è che allora pensa che mio zio non ha messo un equinozio non poteva venire che cazzo è l'equinozio la canzone di Skrillex che cazzo